E' ormai uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama pugliese. Il festival letterario Libri nel Borgo Antico, giunto alla sua quindicesima edizione, sublime ed esalta il centro storico bicegliese, colmandolo non solo di cultura ma anche di sana leggerezza. Sul palco incastonato lungo le mure del castello della città del Dolmen, tanti gli autori infatti che si sono confrontati, presentando i propri libri ma anche parlando di temi di strettissima attualità. Tra i numerosi ospiti arrivati in Puglia per l'evento, anche Giuseppe Cruciani, Nicola Gratteri, Gianrico Carofiglio e Marcello Veneziani. Bilancio più che positivo per un evento che riafferma la centralità della cultura nella promozione e nello sviluppo del territorio. Siamo alla quindicesima edizione, un evento che è cresciuto, è cresciuto nei numeri, è cresciuto nelle presenze, è cresciuto nella vendita dei libri. È quello su cui noi puntiamo, i pugliesi leggono poco e devo dire che lo scorso anno abbiamo registrato il record di 817 copie di libri venduti e per noi è un grande motivo di orgoglio e di successo. Le piazze sono frequentatissime, piene di gente che ascolta in maniera attenta le conversazioni, quindi siamo riusciti ad interessare e a creare anche un panel di autori che, proprio per le diverse tematiche affrontate, evidentemente hanno centrato e quindi grande successo anche per questa quindicesima edizione.